No, 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 mentre camminiamo, non ti preoccupare, camminiamo, 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 sì, 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 mentre saliamo, non ti preoccupare, puoi salire pure lentamente, non ti preoccupare, c'è stato tutto il tempo, non c'è nessuno a presto. La signora Pia ha detto che non c'è fretta adesso, capi? Che si potrà trovare là alle 5 e mezza, capi? Quindi, quando sono arrivate alle 5, cominciamo a prendere la via del ritorno, capi? Sono sciacqua, giovane, giovane! Non stavo vedendo i ventagli, sono all'interno, se ne ho le ventaglie. Tiene pure il cubo di Kubrick. Bello.